Arezzo Calcio Femminile, la squadra del Consiglio Comunale di Arezzo e poi il team giornalisti. Queste le tre squadre che saranno protagoniste del triangolare in gioco per gioco in programma venerdì 21 ottobre al campo Lorentini di Pescaiola con calcio d'inizio alle ore 20. Un torneo amichevole che servirà per raccogliere fondi in favore di EMPA e altre associazioni del territorio aretino. Un'iniziativa voluta dall'EMPA e dall'Arezzo Calcio Femminile per un duplice fine, aiutare l'EMPA raccogliendo un po' di fondi a favore del Canile di Arezzo e far conoscere la squadra dell'Arezzo Calcio Femminile a tutta la città. Quindi chi più dei giornalisti e dell'amministrazione comunale può attirare gente al campo per una serata che speriamo sia di divertimento, anzi siamo sicuri sarà di divertimento e piacere per tutti. Il biglietto d'ingresso è solo 5 euro quindi un prezzo più che popolare, invito tutti quanti a venire al campo e durante la partita ci sarà anche l'estrazione di alcuni premi messi a disposizione da Pulina. Quindi tanti buoni motivi per passare una serata bella, divertente e magari pure per prendere un po' in giro i giornalisti e gli amministratori comunali che di solito sono intoccabili, però stavolta ci si può divertire.